Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Tutto andrà bene, dicono i cardelli appesi ai balconi degli italiani in questi giorni di quarantena nazionale. Una frase che è diventata un po' il simbolo della speranza, coltivata nonostante tutto in un momento così difficile. Una speranza, potremmo dire, laica, fondata sulla tenacia delle persone, sulla capacità di resistenza alle difficoltà, sullo spirito di solidarietà e di abnegazione. Molti quindi resteranno stupiti apprendendo che in realtà il tutto andrà bene a radici cristiane. Si tratta infatti di un'espressione che possiamo far risalire a Giuliana di Norwich, 1342-1416. Mistica inglese, ricordata come santa sia dai cattolici, il 13 maggio, sia dagli anglicani, l'8 maggio. Come storia comune a tanti mistici, Giuliana a un certo punto della sua vita, aveva circa 30 anni, si ammalò gravemente e incominciò ad avere visioni di Gesù Cristo. Il racconto delle visioni fu scritto ed è ritenuto il primo testo in inglese redato da una donna. Questa rivelazione, scrive Giuliana, fu fatta a una creatura semplice e illetterata, mentre viveva ancora nella sua carne mortale, nell'anno di Nostro Signore, 1373, il 13 maggio. La prima edizione stampata delle rivelazioni risale al 1670, poi ci furono ristampe nel corso dell'Ottocento e del Novecento. L'epoca di Giuliana di Norwich fu travagliata. La Chiesa era lacerata dallo scismo asseguito al ritorno del Papa da Avignone a Roma. Il mondo era devastato dalla guerra dei cent'anni fra Inghilterra e Francia. In Europa imperversava la peste nera. Eppure la teologia della mistica è improntata all'ottimismo. L'amore di Dio è più forte di ogni difficoltà. Di qui il suo detto più conosciuto. È stato necessario che esistesse il peccato, ma tutto sarà bene, e tutto sarà bene, ed ogni sorta di cosa sarà bene. Concetto spiegato così Io posso compiere bene ogni cosa Io sono in grado di compiere bene ogni cosa Io voglio compiere bene ogni cosa E io compirò bene ogni cosa E tu vedrai da te stessa che ogni sorta di cosa sarà bene Occorre sottolineare che, secondo Giuliana, quando dice io posso, il soggetto è il padre Quando dice sono in grado, il soggetto è il figlio Quando dice voglio, è lo spirito santo E infine quando dice io compirò, è l'intera trinità divina Un'altra espressione di Giuliana, ripresa da Papa Giovanni Paolo I, è Come è vero che Dio è nostro padre, così è vero che Dio è nostra madre Il poeta Elliot inserì il verso E tutto sarà bene, e ogni sorta di cose sarà bene Nel terzo tempo del quarto poemetto dei quattro quartetti Va notato che il tutto andrà bene è comunque riduttivo Rispetto al tutto sarà bene All shall will be well di Giuliana Tutto sarà bene, infatti, significa non tanto che una certa vicenda andrà a finire bene Ma che qualsiasi cosa succederà sarà buona Sarà bene perché voluta da Dio Il quale non può volere che è il bene delle sue creature E in questa differenza di verbo C'è anche tutta la differenza tra una speranza semplicemente umana E una speranza che ha il suo fondamento in Dio Oggi c'è Radio Roma Libera punto org La prima emittente di podcast cattolici in Italia Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Grazie a tutti Grazie a tutti